In questa bellissima chiesa del Convento dei Cappuccini di Gesualdo, continuiamo il nostro indagare, il nostro interrogarci di quando veramente Gesù vive in me. Finora ci siamo detti che Gesù non vive in me quando emerge il mio io, che Gesù non vive in me quando il mio cuore è invidioso, calunioso, odioso, orgoglioso, quando appunto metto sempre al centro me stesso. Ma oggi potremmo dire che il Signore vive in me quando la mia vita è un dono. Il segreto della vita è appunto in questa parola, donare, farsi dono. Donare, farsi dono, che nasce appunto da un cuore che sa amare, da un cuore che ama. Farsi dono ma senza pretese, perché molte volte noi ci doniamo totalmente alla famiglia, all'amico, alla persona che ha bisogno. Ci doniamo nel nostro servizio civile, nel nostro servizio per la città, per il paese. Ci doniamo nel nostro servizio alla comunità parrocchiare, ci doniamo nel nostro servizio agli ammalati, ci doniamo nel matrimonio. Ma umanamente, tra virgolette, ci aspettiamo qualcosa. La perfezione di una vita che veramente dono è un farsi dono senza pretendere. Certo non è facile, certo bisogna lottare continuamente per donarsi senza nulla pretendere, per amare in maniera disinteressata. Quando l'amore, diceva Mazzolari, inizia a misurarsi, vuol dire che è un amore che non sa farsi dono. Vedete che per far vivere il Signore dentro di noi, e noi per essere dentro di Lui, dobbiamo continuamente lottare contro noi stessi, contro anche delle giuste attese umane che tutti si aspettano, è una persona a cui ci si dà in tutto, una persona a cui ci si dà la vita, ci si aspetta una carezza, un grazie, ci si aspetta affetto. Eppure Lui, Gesù, si è donato totalmente per ciascuno di noi e si continua a donare ancora oggi totalmente per ciascuno di noi, ma alla fine, anche se che Lui desidera per noi solo la nostra salvezza e la nostra felicità. Gesù vive in me e io vivo in Lui quando la mia vita è un dono senza pretese. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!